Disabilità Nell'ambito delle iniziative patrocinate dall'assessorato alle politiche sociali del comune per la giornata internazionale delle persone con disabilità Questo blog è nato quasi per caso attraverso una valutazione delle esigenze delle persone, soprattutto delle persone con disabilità Disabilità intesa non come un problema fisico ma anche come un problema proprio di socializzazione per cui di integrazione alla vita sociale Questo blog la funzionalità quale sarà? Quello di dare informazioni e in più di fare rete con le varie associazioni di riferimento E in più con le istituzioni, con gli enti pubblici, privati e sarebbe quasi un miracolo anche collaborare con l'ASL di competenze Come si potrà raggiungere questo blog? Attraverso il sito internet www.disabilityblog.it c'è anche una pagina Facebook attiva, Twitter e Instagram www.disabilityblog.it